Mi chiamo Isabella Lisboa, sono stata nella funzione di Papa che è venuto a lavarci dei piedi e per me è stata un'emozione grandissima. Io sono 14 anni che sono in Italia, sono un transessuale, ho la mia fede, credo tanto in Dio e Gesù e non sono mai riuscita a andare a Vaticano a vedere la messa di domenica o magari di Pasqua. E per me è stato un disegno come Dio, Dio, Dio ne ha il potere, è grandissimo e c'è una parabola, Maometto non va alla montagna, la montagna viene a Maometto. Quando lui mi ha lavato i piedi, l'ho detto, ho guardato negli occhi e l'ho detto che Dio ti benedica, che Gesù ti benedica, ho detto a lui. E lui mi ha guardato con gli occhi e ho detto, pace e spero, tanta pace, pregherò per tanta pace nel mondo. E lui mi ha guardato ancora. La mia fede, se si può dire, si è aumentata, si è... C'è scritto qui una cosa bellissima di lui, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi, io ne seguo tanto il Papa Francesco, capito? Perché? E per me ne cerco perché lui è amore, lui è amore, lui trasmette l'amore, nei suoi occhi, nei suoi predica, no? Nei modi, nei modi, anche nei modi, perché lui quando ogni tanto fa delle battute così, no? Lui è stato per me, è il Papa, diciamo, del popolo, del popolo immaginato, del popolo, capito?